Sono iniziati a Sansepolcro gli interventi sull'acquedotto e sulle tubazioni. I lavori, oltre che permettere un maggiore afflusso di acqua in tutta la città ed evitare nello stesso tempo le perdite copiose che ci sono in quel tratto, arriveranno praticamente fino a via aggiunti. Tutti questi lavori sono anche propedeutici alla realizzazione della rotatoria viaria nella zona nevralgica proprio di Porta del Castello. I lavori sull'acquedotto andranno avanti fino al mese di giugno. Subito dopo inizieranno i lavori per la realizzazione della rotatoria. Scomparirà infatti lo storico impianto semaforico, quello di Porta del Castello, che fu uno tra i primi in assoluto a Sansepolcro, installato nel 1971, quando ancora c'era lo stabilimento Buitoni al posto dell'odierno centro Valtiberino. Verrà anche apportata la modifica a uno dei sensi di marcia. Torneremo alla vecchia disposizione. Dalla statale si potrà entrare fino alla intersezione di via Nicolò Aggiunti. Poi si girerà obbligatoriamente a sinistra in direzione di Porta Romana. Anche questo è un ritorno al passato. Mentre chi vorrà andare a Porta Fiorentina dovrà svoltare a destra in via Santa Caterina. Tutto questo dopo che sarà realizzata la rotatoria a Porta del Castello.